Sono capo area sull'area di Milano, ho iniziato a lavorare a Risto Più da giugno 2021, da marzo 2022 sono capo area sull'area di Milano, collaboro con 5 consulenti sull'area di Milano e provincia e voglio dire che voi non dovete venire a lavorare a Risto Più perché l'Aresto Più è un continuo miglioramento, è un continuo formazione, è una continua sfida con voi stessi, dunque se non siete pronti ad accettare questo ve lo sconsiglio, la formazione che facciamo non la facciamo solo sull'ambito lavorativo ma lo facciamo anche sull'ambito umano, facciamo dei webinar, parliamo di finanza, parliamo di famiglia, è una cosa che ti arricchisce dentro, la conoscenza che abbiamo qua dentro, soprattutto sui prodotti, ci serve perché quando usciamo e andiamo dal cliente, come già stato detto, non siamo agenti, siamo consulenti, noi portiamo un dato di fatto che è far guadagnare di più il nostro utente finale e vi dico che non dovete venire a lavorare a Risto Più, io sono convinto che dopo le testimonianze di tutti voi avete voglia di lavorare a Risto Più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.